Ragazzi eccoci qui in un nuovissimo video sulla stagione 4 di Fortnite Finalmente eccoci qua con un'altra challenge molto ma molto speciale raga Perché come avete visto probabilmente tutti quanti ci sono nero Probabilmente infatti come avete visto tutti quanti nella mappa sono comparsi degli aerei che atterrano ogni partita In questi aerei c'è un robottino, anzi più di un robottino che ha un'arma molto speciale ragazzi L'arma di Iron Man Qual è il nostro obiettivo di oggi? Beh vincere una partita usando solamente quell'arma ragazzi L'arma di Iron Man Sarà molto difficile ma credo in voi quindi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale che so che non lo avete ancora fatto Mi raccomando utilizzate il codice Lollopollo nel negozio oggetti ragazzi e taggatemi su Instagram quando lo fate E adesso dato che non vedo l'ora di incontrare i nostri robottini ragazzi per rubargli l'arma di Iron Man mi butterei direttamente in partita Ok raga come vedete adesso passano questi aerei intorno al nostro autobus di Fortnite e atterreranno in un punto preciso della mappa Ogni partita a questo punto sarà diverso ma a noi non ci interessa perché andremo al più vicino a quello che ci fa più comodo E cercheremo di fare tutta la partita con l'arma di Iron Man ragazzi Solamente l'unico problema è che non ne vedo neanche uno Cioè non vedo dove sono atterrati più che altro Eeeh potrebbe essere un piccolo problema Ragazzi nella mappa non li vedo ancora Buttiamoci Uno è qui Uno è qui Uno è qui E l'altro è qui Sono tutti lontanissimi ragazzi dovremmo arrivare lì giù È lontanissimo lo so ma ce la faremo Mentre atterriamo ragazzi vi ricordo che sotto la sezione dei commenti trovate magliette, felpe, cover, tazze e tutto quello che potete immaginare di trovare di Lollopollo Con il nuovo logo ragazzi se volete comprare qualcosa compratela e taggatemi su Instagram quando lo fate così vi riposto Allora abbiamo delle armette qui abbiamo una piccola mitraglietta Un'altra pistola wow ragazzi che armi che ci sta dando questa casa Eeeh per fortuna che dobbiamo usare solamente quella degli Iron Man Se no avremmo un loot bruttissimo Ok il nostro Thor pollo il pollo Thor ragazzi il pollo col mantello di Thor è pronto per questa sfida impossibile Vincere una partita usando solamente la nuova arma di Iron Man e degli scagnozzi di Tony Stark raga Allora raga già vedo che ci sono pochissimi nemici praticamente E quindi possiamo farci fuori tutti gli scagnozzi che vogliamo Possiamo prendere tutti i fucili che vogliamo Io per sicurezza ne prenderei anche più di uno Che ci frega tanto Tanto ce ne abbiamo all'infinito praticamente Anzi facciamo così ragazzi ne uccidiamo due solamente Ne uccidiamo solamente due raga Solamente due Questo Questi due Gli altri li uccidiamo Li uccidiamo comunque Ma li rianimiamo E ce li facciamo diventare i nostri alleati In modo che comunque possiamo avere un aiuto in più durante la partita Questo è un segreto ragazzi che più o meno Più o meno segreto Che vi consiglio sempre di fare Rianimatevene due e ve li portate appresso Così avete tre armi speciali Guardate Prendiamo tre armi speciali Anzi ce ne bastano due in realtà Me ne basterebbero due ragazzi E ce ne creiamo un altro Almeno abbiamo tre aiutanti ragazzi E due armi di Iron Man Possiamo ufficialmente iniziare qui La nostra challenge Facciamo qualche materiale Andiamo subito a cercare nemici Perché voglio fightare assolutamente Ok Cassa che ci servirà solamente per le bende Dovremmo lasciare il fucile a pompa Prendiamo più cure possibili Anzi Questo scudone ce lo facciamo subito E ci portiamo appresso di cura bomba Ovviamente raga fatemi sapere qui sotto nei commenti Se queste challenge super belle Super speciali Super strane Vi piacciono Perché durante questa stagione Ne faremo veramente tantissime E vi dico che la mappa sta cambiando Ragazzi Sta cambiando Aggiungeranno nuove città Nuovi boss Nuovi cose E quindi ci sarà ancora Molto più divertimento Caro mio compagno Vieni con me Mi sta ignorando palesemente Va bene Vuol dire che prenderò un'abilità mitica Il cespui di grutto Non mi piace per niente Quindi cercherò qualcos'altro Come quell'arma di Iron Man Viola Non ci avevo pensato effettivamente Di poterla trovare Viola Ma lo abbiamo appena fatto Quindi GG ragazzi Dammi un'altra Viola E sei un grande No Non me l'ha data Viola Ma va bene così Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo in safe Ragazzi Andiamo in safe Che è molto vicina E andiamo subitissimo A cercare dei nemici Da far fuori Ok Questa sfida per adesso Sta andando Fin troppo bene Ragazzi Non c'erano nemici Al robot Cioè All'aereo Il che è molto strano Già questo Già il fatto che Non ci siano nemici Che è molto Ma molto strano Però A noi va meglio Cioè Per noi è meglio così Ragazzi Non mi sto lamentando Assolutamente Certo Mi aspetta Mamma mia Stavo esplodendo Ho fatto una cavolata assurda Ragazzi Pensavo di picconare di fuori Invece ho picconato E qui c'è un'altra Tra l'altro Che sta per esplodere Va bene Ci sta Ci sta Ragazzi Ho sbagliato Ok Allora Non abbiamo ancora Trovato dei nemici Il che non so Se è una cosa positiva O negativa Io ho paura Che al primo nemico Che troveremo Moriremo Ragazzi Ho veramente paura di questo Comunque Per adesso Stiamo solamente Con le armi di Iron Man E io vi dirò Che secondo me Se troviamo qualche nemico A fine partita La possibilità Di prendere magari Un fucile a pompa Io la terrei In considerazione Beh Perché ho paura Di fai dare da vicino Con l'ultimo nemico Con un fucile Di energia Di Stark Ragazzi Cioè Capitemi So che è fortissimo So che è più forte Di uno Scar So che è l'arma Che fa più danno Cioè il fucile del salto Che fa più danno Però Capitemi Da vicino È un po' Scarso Quindi Ecco un po' Magari a fine partita Lo terrei in considerazione Come il fatto Che abbiamo Degli scagnozzi Che sono un po' Stupiti ragazzi Guardate questo Dov'è Questo è ancora Lì giù Penso che non saranno Utili per nulla Ok Vediamo se tante volte Non hanno lutato Neanche qui Ragazzi Perché mi sembra Tutto troppo intero Ma i nemici In questa partita Mi spiegate dove si sono buttati Cioè a me va bene così Però dove Dove sono i nemici ragazzi Oh Eccolo L'ho chiamato Oh no 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 ragazzi No 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 Non ci credo Ma non ci credo Ma non ci credo Ho detto Dov'è il nemico E era qui dentro la casa Ma dai Ma pensavo Non ci fosse nessuno Ci sono rimasto malissimo Ragazzi Ci sono rimasto malissimo Dobbiamo buttarci a fare Un'altra partita Per riprovare Ragazzi Sperare di non trovare Un nemico che ci spara Così all'improvviso Allora abbiamo un robottino Subito qua sotto Ci buttiamo direttamente Lì per questa terza partita La prima è andata benino La seconda è andata malissimo La terza Spero vada almeno bene Dai ragazzi Anche perché Dovete sapere Che questi robottini Sono veramente Troppo forti Cioè quest'arma È talmente forte Che anche i pro player Muoiono da questi scagnozzi Come pro player Vi dico Beh chi Chi pro player Mi è morto Beh io Ragazzi scusate Io sono morto Da questi scagnozzi E sono un pro player Quindi Eh beh Direi proprio di sì Non sono riuscito Un'altra volta Ad alterare No 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 rega No 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 Pochissima vita Pochissima vita Pochissima vita Raccolgo delle bende Pochissima vita Pochissima vita Ok Ho delle cure Adesso non muoio Sicuramente Spero Oh un nemico Ho ucciso un nemico Ma guardate come mi sparano questi Ma sono infami Ma sono infami Cioè Non basta Che sono Sei Sono sei Più il nemico Uccido il nemico Prendo l'arma Mi curo Ho fatto tutto ciò In cinque secondi Rega Ok Cerchiamo di non ripetere Gli errori fatti Nelle partite precedenti Rega Cerchiamo stavolta Di riuscire Finalmente Ad atterrare Su uno di questi Cavolo di robottini Rega Ce la facciamo Secondo me Sì dai Stavolta Ce la dobbiamo fare Perfetto Almeno abbiamo Il no La nostra Revolver E vai Beh 124 Cosa Altro che Altro che L'arma di Tony Stark È la più forte Ragazzi Questa pistola Ma come cammina Quello scagnoso Questa pistola È assurda Fa 63 nel corpo E 126 In testa Cosa Certo poi Il problema Sarà quello Di prenderlo in testa Tutte le volte Ma Rega Li abbiamo fatti fuori tutti Con Pochissimo tempo Con una pistola Che fa 126 di danno Sta arrivando un nemico Tra l'altro Dobbiamo Oh cavolo Questo non è un nemico Questo è un coso gigante No rega Non ci credo E beh Non ci credo Non mi poteva uccidere Rega L'ho fatto fuori Finalmente Finalmente l'abbiamo fatto fuori Adesso Prendo subitissimo Questi curabomba E agheriamo I nostri scagnozzi Ne agheriamo 3 Come sempre E ci riportiamo presto Per questa partita Mi stavo Ragazzi Io questo video Non lo volevo fare Questo video Non lo volevo fare Questo video Non lo volevo fare Ragazzi Che dirvi Questo video finisce qui Abbiamo fatto una partita decente E le altre Veramente orribili Rega Non fai in tempo Ad atterrare A prendere un'arma Che i nemici Veramente ti sciolgono Rega Senza neanche Che tu li vedi Arrivano con le macchine Con gli aerei Con i trattori Rega Veramente con le peggio cose Ma non è un problema Rega Perché 2500 like Riproveremo questa challenge Sicuramente Magari ci faremo aiutare Da qualcuno Perché veramente Da soli È impossibile Rega È impossibilissimo Fatemi sapere Cosa ne pensate Di queste challenge Lasciate un like Iscrivetevi Se ancora non l'avete fatto Condividete il video Abbonatevi se volete E ci vediamo Al prossimo video Grazie per la visione Bella a tutti Grazie per la visione